Buongiorno, ciao a tutte e tutti, ciao Vitamino, ciao Guccio Allora in questo video ci truccheremo finalmente insieme Quanto è che non ci trucchiamo? Ah, magari non lo squisimo Allora io purtroppo già negli occhi ho applicato il corretto, diciamo come base E ho già truccato l'occhio destro perché ho sbagliato Bravo Non fa niente Aspettate perché devo prendere il rossetto che mi sono dimenticata di là Allora, la palette che ho usato dai correttori è questa Allora è questa di qua, la Define Sculpe La Glam Shape L'ho utilizzata come correttore, ci ho utilizzato questo Questo che è il più chiaro che è quello che vedete di qua nell'occhio Aspettate che chiudo perché finalmente Mi dà fastidio quando le persone parlano mentre faccio i video A parte io Ci devo parlare solo io Allora mi preparo tutti i trucchi alla mia sinistra Così tutto portato di mano perché con l'appendamento è venuto Non la fai figlio Allora i trucchi che ho preso, diciamo, del trucco Li ho presi da questa palette La palette, diciamo, quella per il contouring Però non ha importanza, cioè alla fine Allora sono andata a prendere questo Che è quello in polvere E' questo Vabbè questo lì No, giusto Ando a mettere qui Che poi tra l'altro è un colore chiarissimo Cioè la cosa che io odio è quando fanno il bidone Poi vende il marroncino che Vedete è quello, diciamo Dare un pochettino di profondità al trucco, all'occhio Cioè un attimo devo vedere l'orario Cioè sono le 10 Ok mi sembra che è buono Poi per andare a fare un pochettino di centellino Mi vedete in quest'occhio Mi sono comprata questo ombretto dell'Exuma Beauty Ed è questo, è un ombrellino Aspettate che mi devo riparare È troppo piccolo Cioè ok È un ombretto in glitter Vedete Vedete È molto carino La mia verità è costata 2 euro Però Lo applico Ecco Ecco qui Fa questo effetto glitter È molto carino È molto carino Perché stamattina volevo dormire Volevo dormire fino all'una, le due, le tre E invece no Cioè per un Cioè per un Vabbè Magari ancora non è detto Avevo un appuntamento Con una persona Chi si doveva prendere una cosa Allora appunto per questa persona Cioè se appesa il mio numero non mi ha lasciato il suo è già questa cosa a me Mi puzza da morire Quando fanno queste azioni di merda E persone di merda E persone di merda Perché sono persone di merda Per me E fanno i bidoni Non gli posso venire Cioè se devi fare il bidone Cavolo dillo Guardi non posso venire Giusto? Perché che cazzo di senso Aveva appunto Entra le persone Ma non è che io non sono scesa Perché infatti adesso Io ho mandato Un messaggio E tu l'articolo Tu lo devi prendere Però non mi ha Cioè Viene consegnato però A parte questo Io blocco tutti Quando fanno queste azioni di merda Io li blocco Perché poi se ne escono Che hanno ragione loro Che sono venuti Io non mi ci presento Se non Infatti mi pare Non glielo ho scritto ancora Allora Prendo le line di color trend Che è uno schifo totale È una merda Perché è una merda Oggi sono tutte cose merda Quindi Prendo le line che è una merda La metto nello stampino Del mio liner preferito E E lo metto nell'occhio Capisci Nella mia trenatia Io so Ok Siccome è una merda Sto il liner Vedete perché Perché fa schifo Non tiene Dopo due rette Diventa tutto pallino Cioè Che il liner È veramente E' una merda Io mi vai voglia A sapere Una cosa del genere È chiuso pure Che te cosa accattano Una cosa Che la regista È una mese Perfetta Però che se ne frega Una mese Perfetta Ma vabbè Lo sappiamo Che non sono io Quindi E' una mese Oltremmeno Ora Allora Facciamo questa persona Questa è una matita Sempre di Lidl Cioè Io odio Perché questo telefono Si deve vedere così Ma vabbè Ora Applichiamo una matita Per Le sopracciglia Che mi pare Sempre Quella Di Lidl Che non penso Di applicare Cioè Sono deciso Di mettere Il fondotinto No Perché Vabbè Lo mettiamo insieme Se poi Cosa Non lo trovo Boh Adesso Applichiamo Il mascara Allora Siccome Il mio mascara E' finito Come avevo detto Che era finita Ne ho acquistato Uno di 2 euro Che è un mascara Waterproof Boss Ha un effetto 3D Perché ce l'ho scritto Nel cartello Ed è questo Cioè Sapete Non è male Anzi Fa delle belle Non belle sciglie L'applicatore Sembra come Quello di Supershock Il teppone Si è allontanata L'ha commesso Ho aperto Per vedere Il Cosa Ma fa bello Bello Fa una bella Asset Cioè Io Direttamente Potrei uscire Anche Enzo Fondotinta Perché Non mi serve Però Lo applicherò Si Lo applico Anche Per trovare La nostra Terra Penso Che Con il trucco Negli occhi Abbiamo finito Mi piacciono I miei capelli Sono troppo Belli La maggior parte Di persone Mi hanno detto Ma Sono X-Tension No Allora Come fondotinta Vado ad applicare Il Real Matte Di Colore Trend Prima Da lavare Le mani Perché Mi sento Sporchi E Non è Corretto Ok Ho cercato Di gustare Bene La fotocamera Allora La mia colorazione Fondotinta È medium Beige Io cerco Di applicarne Sempre poco Perché Questo fondotinta È molto Corposo Molto Concentrato Comunque I correttori Sono veramente Carini Teodine Verità Anche C'è Parte Osto Non me lo aspettavo Eh Forse di fare La frangetta Così Alzata All'indietro C'è Mi sono bronzata La fronte Veramente È una cosa Non si può Io Sì Che Siano Caricata Purtroppo Sono una persona Precisa Nel senso Che Una persona Deve mantenere L'orario Oh Io non lo mantengo Mai L'orario Nel senso Che ci sono Certe volte Che arriva Ritardo Insomma Eh Va bene Vado Ad applicare Un pochettino Di cipre Anche se Lui È già Fondamentalmente Lui È fondamentalmente Un prodotto Mattificante Però Io applico Sempre la cipre Nella zona T Perché È il mio Punto Debole Purtroppo Ok Se andate A prendere Il pennello Cercavo Un blush Tipo Sul rosa Però Non l'ho trovata La mia cipre Non è Diciamo che sto Corretto Non è che è tutto Scurezza Non è che è tutto Scurezza Non è tutta Scurezza Che magari Una si Si immagina È troppo scura Cioè Manca un messaggio Veramente No A me Direttamente Appena Passa L'orario Io blocco Direttamente Cioè Già All'orario Passo Cioè Poco persone Indegne Per me Sono indegne Persone Che fanno Accorsese Pugnere Direttamente Alla Che ho già Mascorato Che hanno Visto Non mi ha Dato il numero Dei telefoni Facci a qualcosa Che non va E infatti Poteva Rimeleggiamo Quella mente No Facciamo Inserire Sveglia Allora Con la terra Con la Scura Vado a prendere Il pennello Angolato Che è il 102 E' quello Per il brush Magari La terra Diciamo Scura Io ho preso Purtroppo La tonalità Chiara Di questa Paletta Lo sapete Perché 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 Io sono Chiara Che vado A prendere Quella Più scura Che magari Poi Non può Andare bene Per le mie Conformità Non è male Sapete che Dico meglio Le cose Chiare Che le cose Troppo Scure Che poi Non è Sistemare Anche un po' Il naso A molte persone Piace quando Metto L'illuminante Qua Dice che Mi sta bene Che io dico Io Ho il naso Che è uglioso Che fa schifo Mi sono messo Un brillantino Adesivo Perché Da quando Insomma Il mio ragazzo Mi ha detto Vita Dice ti sta bene A te Dice brillantino Ma So fatta Però Quello Diciamo Adesivo Perché Ancora Mi deve arrivare Un kit Che ho preso Da lì Ho preso Un kit Da lì Adesso Sto mettendo L'illuminante Bello Molto Questo set Di ali Praticamente Ha un'useggetta Diciamo Per fare Una volta Il piercing Lo possono Fare Tutti Possono Fare Tutti Tutti Ed è Molto Carino Vabbè Lascio Lo metto Dopo Quando metto Il rossetto Perché Allora Vado a mettere Una matita Che questa L'ho presa Insieme A un rossetto Aspettate Ho preso Questo rossetto E questa Matita Nambinata Solo che Questo rossetto Appena si ossida Diventa Tipo Un colore Rosa Grigliastro Che Per il momento Non mi piace L'ho preso Due euro E Matta Non lo so Per il momento Non mi si addice Quindi Applico Bello Applichiamo Un rossetto Della mia Epic Il Trust Fall Proprio Quello Chiaro Perché Volevo applicare Il Naked Naked Quello Di là Però Un po' Questo Vabbè Non è male Voglio una cosa Di sopia Oggi Do per Casino Degli occhi Che Non è Neanche Male Ok Come vedete Certo Hanno applicato Tanto Vero è carino Mi sembrava Molto più chiaro Rispetto Gli abbiamo detto Perché è troppo chiaro Qui di là Invece Non è molto carino Mi piace Adesso Applichiero Il mio blush Che sto guardando Che si è rotto Non può durare niente Ma vedete che l'ho sbattuto Ed è caduto Ci potiamo fare Allora da applicare con il mio pennello da blush Che a questo mi sta piacendo Molto Ok il trucco è finito Spero vi E' tenuto compagnia O vi è piaciuto Non ve lo fate voi Che in questo momento Proprio in questo minuto Né mi piace Né Anche quando sono nervosa Vabbè dai Manno un bacino a tutti Ciao